Eccoci, buonasera, il telegiornale partirà con il braccio di ferro tra governo e opposizione. L'opposizione che sapete è soprattutto Fratelli d'Italia perché il governo ha posto la fiducia, ha posto quattro volte la fiducia in 48 ore per un percorso di guerra parlamentare a passo di carica. È il caso di dire, e si sa qual è la questione, che bisogna varare tutta una serie di riforme che ci ha indicato l'Europa e che dobbiamo appunto portare a diventare leggi entro il tempo prestabilito, che è sostanzialmente la fine dell'anno. Sono 42 leggi che sono, è bruttissimo a dirla in termini di corrispettivo, ma sono quelle che l'Unione Europea ci ha chiesto per la dotazione di fondi, di aiuti a fondo perduto e di prestiti del piano Next Generation EU, se volete il PNRR. Legittimamente l'opposizione dice, così però si strozza del tutto il dibattito parlamentare e si umilia il ruolo di deputati e senatori. Dall'altra parte si dice, non c'è un'altra strada per riuscire a portare in tempo a compimento tutto e peraltro con una maggioranza del 90% il problema non è certo a girare il dibattito parlamentare. La verità, valutatela voi, sicuramente però tutto questo provoca tensioni nel partito di frontiera tra la maggioranza e il rapporto con Fratelli d'Italia, cioè la Lega. Salvini platealmente oggi dice, io sto con Giorgetti, sto con i governatori del Nord, ma come si sa c'è una parte a Lega l'euro parlamentare donato che ha lasciato, se n'è andata, non condivido Green Pass e tutto il resto. Salvini dice, vabbè, chi se ne va auguri buon viaggio, però resta il dato di una parte della Lega in sofferenza. Mentre vedremo, c'è un clima nel mondo degli scettici, dei no green pass, dei no vax, che richiama la ricerca in alcune france, è ben inteso di una sorta di ordito mondiale, quello che viene fatto passare per il grande reset. Vedremo di che si tratta, mentre la sostanza vera è che le aziende produttrici, quelle che vengono chiamate lì Big Pharma, stanno proponendo anche un'edizione del vaccino, come si sa, per i bambini, ma qui gli esperti frenano e frenano molto, come sentiremo. Fino ad ora non ce n'è bisogno. Vedremo però anche che ci sono molti altri fatti, anche dalla scena internazionale. Vi mostreremo prima la storia incredibile di un uomo che si era fatto passare per morto in Albania, un imprenditore forse dedito a commerci non raccomandabili, che poi appunto ha inscenato la sua morte, morte, bruciato in un'automobile, in realtà riparato proprio a Meggiugorie, luogo come sapete di processione e di raccoglimento per poi rientrare furtivamente in Italia. È stato beccato a largo di Monte Cristo con tutto ciò che fa supporre che dovesse scavare per cercare qualcosa, un tesoro, ma qui non c'entra Dumas, qui c'entra probabilmente qualcosa di molto più recente. Vedremo che Biden dalla tribuna dell'ONU si rivolge all'Europa e al mondo per dire sono tornati gli Stati Uniti, basta guerra fredda, siamo disposti ovviamente a ogni trattativa, ma la verità vera è che poi arrivano immagini dagli stessi Stati Uniti, dalla frontiera sud che fanno capire che c'è una spina ancora nel fianco, quella dei migranti. 30 secondi i titoli. Il governo accelera sulle riforme a colpi di fiducia, messa per quattro volte nel giro di 48 ore al Senato, stasera la prima con il voto sul processo civile, poi domani due sul processo penale e giovedì la quarta sul decreto Green Pass bis. Dura protesta dell'opposizione, Parlamento mortificato, è una deriva preoccupante per la nostra democrazia, attacca Giorgia Meloni. Nessuna mortificazione, una roadmap necessaria per ottenere i fondi dall'Europa rispondono dalla maggioranza. Da Giorgetti a Fedriga, a Fontana, a Zaia, l'appoggio dell'ania moderata della Lega all'estensione del Green Pass spacca il partito, se ne va Francesca Donato, l'eurodeputata è praticamente Novax che accusa di non aver ascoltato la base, non mi trovo più a mio agio, non posso più stare in un partito che sostiene l'esecutivo Draghi, dice Salvini, ostenta compattezza, ringrazio chi va via, lo saluto e tanti auguri e poi posta le sue foto proprio con Giorgetti, Zaia, Fedriga, Fontana. Dopo l'esame dei primi risultati della sperimentazione, Pfizer ha assicurato ieri che il vaccino ha dato anche ai bambini dai 5 agli 11 anni, ma gli esperti praticamente tutti frenano perché l'analisi clinica è stata fatta su un numero ancora troppo limitato di casi. Per Francesco Vaglia, il direttore dello Spallanzani di Roma, è presto e le inducazioni non sono un educa. E intanto dal fronte complottista, no Vax, no Green Pass, eccetera, eccetera, si delinea un altro grande ordito, il disegno del grande reset. Vi spiegheremo cos'è. Dopo la crisi afghana, le tensioni con Pechino, l'assemblea generale dell'ONU, Biden, ha smentito di voler instaurare una nuova guerra fredda, prendendo il dialogo con la Cina, ribadendo la priorità dei rapporti degli Stati Uniti con l'Europa, ma l'immagine di Washington è offuscata dalle tensioni con la Francia per la vendita dei sommergibili all'Australia e i video delle frustate degli agenti a cavallo ai migranti, ai tiani, soprattutto al confine col Messico. Emergenza alle isole Canarie per l'eruzione del vulcano Cumbra Vieja che si è risvegliato dopo 50 anni sull'isola di La Palma, da dove arrivano le immagini di pioggia, lapilli e colate di lava che hanno già distrutto strade, campi contivati e almeno 200 abitazioni, oltre 5 mila persone già evacuate, mentre gli esperti avvertono che l'attività eruttiva potrebbe intensificarsi e proseguire per settimana. Buonasera, molti fatti, ma apriamo da quella corsa contro il tempo e anche contro l'opposizione del governo in sede parlamentare, quattro volte il ricorso alla fiducia in 48 ore per portare alla fine, al voto finale, una serie di riforme, soprattutto sulla giustizia, che ci sono state richieste dall'Europa e che sono in qualche modo necessarie per continuare a ottenere i aiuti a fondo perduto e i prestiti agevolati del PNRR. A nome del governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo. Il governo va di corsa e l'opposizione insorge. Quattro fiduce in 48 ore al Senato, un record protesta Fratelli d'Italia, dopo che a Palazzo Madama la conferenza dei capigruppo ha disegnato la roadmap dei prossimi giorni. Subito, stasera, il voto di fiducia sulla riforma del processo civile. Poi domani due fiduce sulla riforma del processo penale e a seguire, giovedì, il quarto voto di fiducia sul decreto Green Pass bis, in via di approvazione alla Camera. Una scelta che non ha precedenti, il governo italiano chiede quattro voti di fiducia in 48 ore su temi sensibili, come la giustizia penale e civile e come il Green Pass. Parlamento mortificato, l'opposizione non è in grado e non può dire la sua, una deriva davvero preoccupante per la nostra democrazia. Nessuno scandalo, nessuna mortificazione, spiegano dalla maggioranza. La sequenza ravvicinata di fiducia è dovuta al sovrapporsi, nel calendario, di provvedimenti come le riforme del processo penale e civile, agganciate al recovery plan, e del decreto Green Pass bis in scadenza il 6 ottobre, considerando che la settimana prossima l'Aula si fermerà in vista delle elezioni amministrative. Su quest'ultimo provvedimento la Camera ha votato questo pomeriggio la fiducia. Si tratta delle regole del certificato verde per scuola, università e trasporti. Domani il via libera definitivo. Fratelli d'Italia sfida il Governo a dire sì al suo ordine del giorno, che chiede di revisionare i parametri di capienza delle sale dei teatri e dei cinema e negli stadi. Un punto sul quale continua a battere il Ministro della Cultura Franceschini, che la scorsa settimana, quando il Governo ha barato il decreto sul Green Pass obbligatorio per i lavoratori, sul numero di spettatori si è scontrato con il collega La Salute e Speranza. Gli interventi che abbiamo messo in atto hanno aiutato, ma oggi c'è bisogno di ripartire, c'è bisogno di un ritorno alla normalità, dice Franceschini, rimandando al parere che fornirà il Comitato Tecnico Scientifico al Governo entro il 30 settembre. Ma queste vicende e soprattutto la questione del Green Pass hanno tracciato un solco all'interno di una delle forze della maggioranza, la Lega, che registra un'uscita e che fa qualche rumore di quella sorta di passionaria contro il Green Pass e in gran parte contro il vaccino che abbiamo visto tante volte in televisione, l'eurodeputata Donato. Ma in realtà dalla Lega si dice tanti saluti e buon viaggio e si cerca di stringere le fila. Se ne va Francesca Donato, l'eurodeputata Novax lascia la Lega e spiega. Sull'estensione del Green Pass Salvini è finito in minoranza nella segreteria del partito, ha prevalso la linea di Giorgetti, dei ministri e dei governatori, su quella condivisa la larga parte della base. Non mi trovo più a mio agio e tolgo tutti dall'imbarazzo, non posso più stare in un partito che sostiene l'esecutivo Draghi. La Lega la invita a cercare un'altra collocazione e lei elogia Fratelli d'Italia. Hanno mostrato coraggio e lungimiranza non entrando al governo, spiega. Un caso, quello delle dimissioni dell'eurodeputata, che rinfocola il dibattito sulle due anime del carroccio, proprio mentre lo sforzo dello Stato Maggiore è tutto per fare quadrato, per mostrare compattezza in vista delle prossime partite che dovranno affrontare il governo in maggioranza, dal fisco al reddito di cittadinanza, per minimizzare la frattura emersa platealmente sul Green Pass, che PD, 5 Stelle e Leo continuano a rimarcare. Chi va via lo ringrazio, lo saluto e tanti auguri, non mi preoccupa la tenuta del partito, non commento fantasie sulla Lega ma la realtà, e la realtà sono bollette e tasse, replica Matteo Salvini. E a ostentare la compattezza del carroccio, pubblica su Twitter un collage di foto che lo ritraggono sorridente con gli altri big, il ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, i presidenti di Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, Massimiliano Fedriga, Tilio Fontana e Luca Zaia, con una frase che suona come un appello all'unità. Dedicato a chi ci vuole male, uniti si vince. I governatori danno manforte al segretario, ma confermano che la Lega ha più anima. Nel primo partito d'Italia è normale che ci siano correnti diverse, ma da noi non c'è spazio per i Novaks, commenta Fedriga. Senza la Lega la Donato non sarebbe diventata europarlamentare, la diversità di opinioni in un grande partito non è uno scatto, la sottolinea Zaia. Vedremo cosa faranno gli altri che sono su una posizione diversa, ma intanto le questioni si pongono e in qualche modo vanno a intrecciarsi e a impattare anche sul dibattito politico. C'è ora la questione della possibile vaccinazione dei bambini, ma qui sono gli esperti, già i primi a porre una linea di resistenza. L'argomento è molto delicato, i pareri discordanti. La discussione sulla vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni è iniziata dopo l'annuncio della casa farmaceutica statunitense Pfizer dei risultati sulla prima sperimentazione in questa fascia d'età, per ora rimasta fuori dalla campagna di vaccinazione. Pfizer sostiene che in età pediatrica il vaccino si è dimostrato ben tollerato e ha prodotto una risposta immunitaria robusta. Si tratta però di un'analisi clinica fatta dal produttore e sul numero ancora limitato di bambini, 2200. Il direttore dell'Istituto Spallanzani, Francesco Vaia, fa notare che è ancora troppo presto, che non sono univoche le indicazioni della comunità scientifica per poter vaccinare questa popolazione così sensibile. Il buonsenso, afferma Vaia, è di aspettare. Da parte sua Pfizer ha annunciato che entro poco presenterà il suo studio agli organismi di regolamentazione dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e di tutto il mondo, ma i tempi in ogni caso non sono brevi. In Israele è già stata data un'autorizzazione speciale per immunizzare i bambini che sono a rischio significativo di malattie gravi o di morte. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, pur precisando che bisogna appunto attendere la valutazione delle agenzie, si dice favorevole, come il consulente del generale figliolo Guido Rasi. Sarà indispensabile, sostiene, vaccinare i bambini perché la variante Delta attacca anche questa età. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità, nelle ultime due settimane i nuovi contagi tra gli 0 e i 19 anni sono stati oltre 17 mila e la metà sono tra gli under 12, numeri importanti per valutare l'impatto della pandemia sulla riapertura delle scuole. Lapidario, il virologo Roberto Burioni, che su Twitter scrive, chiarimento molto deludente la sperimentazione Pfizer su bambini di 5 e 12 anni ha misurato sicurezza e risposta anticorpale, ma non la protezione. La dimostrazione che il vaccino protegge i più piccoli non c'è. E poi c'è chi subodora, vede, prende di mira e mette appunto a fuoco quello che considera essere il grande complotto, quel complotto che variamente in questi anni abbiamo visto, in questi anni di sfida del Covid abbiamo visto all'insegna di nomi Soros oppure Bill Gates o il 5G dei cellulari o altri complotti vecchi e nuovi. Ora la nuova frontiera del complotto è un'altra. C'è il nuovo ordine mondiale che ci vuole ammazzare dei popolari. Se case farmaceutiche di merda, Bill Gates, i Soros, i Rockefeller, i Rothschild. Era soltanto 20 giorni fa la manifestazione, un flop dei guerrieri, no dittatura, davanti alla stazione Garibaldi di Milano. Oggi probabilmente questo manifestante con la maglia con scritto Marcia su Roma all'elenco aggiungerebbe l'ultimo fantasma che si aggira da qualche mese sulla rete nei profili dei complottisti antivaccinisti. No Green Pass, no Vax. The Great Reset, il Grande Reset. Che, secondo certe teorie del web, sarebbe un piano di un gruppo di oligarchi. Il primo a parlarne era stato il principe Carlo d'Inghilterra al World Economic Forum di Davos nel 2020 per stabilire un nuovo ordine mondiale, più equo, più verde, più digitale e più socialista attraverso le due emergenze di questo tempo, il Covid e il clima. Questo grande reset come castigo attraverso la pandemia, fino a un paio di giorni fa, sembrava più simile al Grande Cocomero, la figura mitologica e spiritica che nelle strisce dei Peanuts doveva comparire ad Halloween ma non arrivava mai. Ma poi c'è stato un intellettuale come Carlo Freccero, uno dei maestri della tv italiana, che l'ha evocato in una lettera alla stampa per sostenere il referendum contro il Green Pass. Freccero è nel Comitato dei Garanti e ha scritto Il Green Pass è destinato a diventare l'embrione della futura tessera di identificazione digitale a cui mira il grande reset in via di attuazione. In buona sostanza il Covid, 4 milioni e mezzo di morti nel mondo, le crisi climatiche, cicloni e siccità, Greta eppure il Recovery Fund sarebbero tutti cavalli di troia di questo grande reset, sebbene non sia chiaro perché un'elite finanziaria globale dovrebbe ordire un complotto per cambiare uno stato di cose in cui si trova a suo agio come il verme nella mela. Tanto che poi ci sono i complottisti al quadrato che dicono che lo stesso referendum, no Green Pass, che difficilmente passerà, sia solo una manovra dall'interno per smontare la causa Novax perché c'è sempre uno più puro che tiepura e quindi la rete è piena di gente che non crede che il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, vaccinato, sia ricoverato con la polmonite senza avere il Covid e qui viene in mente la bufala di chi dice che politici e VIP vengono vaccinati con l'acqua fisiologica mentre al popolo viene iniettato di tutto. Il grande reset intanto servirebbe per il cervello. Sì, posto che esista la materia prima. Andiamo a vedere adesso una storia italiana che ha dell'incredibile, di un uomo che si è finto morto in circostanze drammatiche in Albania per sfuggire probabilmente a chi lo cercava o ai creditori e che è andato a riparare là dove in genere si va in meditazione e in preghiera per poi tornare furtivamente in Italia e qui è solo metà della storia. Una possibile tragedia che si trasforma in romanzo d'appendice con una finta morte al confine col Kosovo e il ritiro spirituale a Međugorje una mappa del tesoro su un'isola misteriosa elementi che sembrerebbero perfetti per una storia inventata ma che appartengono alla vita di Davide Pecorelli 45 anni, ex arbitro di calcio ormai ex imprenditore padre di quattro figli lui era scomparsi in Albania nove mesi fa e riapparso soltanto sabato scorso su un gommonino avaria a largo delle coste del Giglio con capelli tinti di biondo Pecorelli è stato ascoltato dai magistrati della procura di Perugia che indagavano per omicidio e traffico di droga un'inchiesta nata dopo il ritrovamento dell'auto noleggiata da Pecorelli in fiamme al confine tra Albania e Kosovo con all'interno il suo telefono il suo orologio e frammenti di resti umani a Tirana Pecorelli era arrivato ufficialmente per sistemare i suoi affari di imprenditore un albergo e negozi di parrucchiere non via sull'orlo del fallimento ma poco dopo ha fatto perdere le sue tracce l'auto bruciata ha fatto pensare al peggio ma la sua morte i magistrati non avevano mai creduto ha ragione come ha ammesso lo stesso Pecorelli e gli inquirenti ero disperato per i debiti dovevo sparire ho trafugato delle ossa da un cimitero e poi dato fuoco all'auto non l'ho fatto per incassare i soldi dell'assicurazione da quel momento il suo racconto diventa ancora più incredibile avrebbe incontrato un sacerdote in Albania e poi avrebbe passato mesi in una comunità a Meggiugorie senza mai contattare la famiglia ma con chi è rimasto in contatto in Italia quando la davano per morto? nessuno ma i suoi familiari sapevano? ma assolutamente no nessuno mi hanno rivisto quando sono tornato dall'isola di Monte Cristo rimangono dubbi su quando si è tornato in Italia ma il motivo per cui l'abbia fatto sembra chiaro ha affittato con un documento falso raccontando a tutti di essere un geologo con una stanza in albergo nell'isola del Giglio poi ha comprato piccozza vanga sacchi di juta e noleggiato un gommone aveva una mappa di Monte Cristo con ogni probabilità cercava sull'isola un tesoro leggendario quello trovato da Edmond Dantes nel romanzo ottocentesco di Dumas il conte di Monte Cristo poi sarei tornato a casa detto ai PM di Perugia i suoi sogni di rivincita si sono fermati per carenza di benzina tra le onde a largo delle coste dell'isola toscana su cui è vietato sbarcare a Perugia sarà chiusa l'inchiesta per omicidio ma i suoi problemi visto che ha inscenato la sua morte non sono finiti qui a meno che non cercasse un tesoro molto più recente e molto più furtivo e inconfessabile andiamo allora all'estero sulla platea sul podio di quello che è l'appuntamento annuale più atteso dalle diplomazie e di tutto il mondo si apre l'Assemblea Generale dell'ONU e tradizionalmente tra i primi a parlare c'è il Presidente degli Stati Uniti Il mondo secondo Joe Biden spiegato in 34 minuti nel suo primo discorso l'annuale apertura dei lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Il Presidente comincia rivendicando il taglio netto dalla precedente amministrazione di ritorno dell'America su tutti i tavoli di negoziato multilaterale abbiamo aperto un'era spiega Biden nel quale alle guerre perenni la menzione dell'Afghanistan è chiara verrà sostituita la forza della diplomazia due temi cardine che questa diplomazia implacabile come l'ha chiamata il Presidente americano deve affrontare il Covid l'America ha già donato 160 milioni di dosi al resto del mondo ma non basta chi sta uscendo deve fare di più per chi è ancora dentro e soprattutto il clima con un annuncio forte gli Stati Uniti raddoppieranno i loro stanziamenti per la transizione verde e si adopereranno perché tra pubblico e privato vengano raccolti 100 miliardi di dollari da destinare ai paesi in via di sviluppo per convertire le loro economie Biden non fa mistero di voler mettere Washington a tirare il gruppo per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi nel quale gli Stati Uniti sono rientrati dopo l'uscita voluta da Trump siamo ad un punto di non ritorno sottolinea il presidente americano è il momento di presentarsi al negoziato sul clima con le ambizioni più alte che abbiamo il resto è una disamina geopolitica della posizione degli Stati Uniti nel mondo dalla quale emerge chiaramente il predominio dello scacchiere pacifico su quello atlantico con la Cina ripete Biden c'è un'alta competizione ma non vogliamo la guerra fredda e sul commercio il democratico abbraccia la visione del suo predecessore servono nuove regole i diritti dei lavoratori la tutela dell'ambiente e la protezione della proprietà intellettuale devono valere per tutti poi la manotesa all'Europa con la quale dopo il precipitoso ritiro dall'Afghanistan nello sgarbo alla Francia sulla vicenda di sottomarini all'Australia c'è una concordia da ricostruire l'Europa è fondamentale per raggiungere tutti gli obiettivi che insieme ci siamo prefissati dice il presidente ed entrando al palazzo di vetro ad una domanda di un cronista si lascia sfuggire con la Francia non c'è nessun problema ma Trump probabilmente non è d'accordo ma in queste ore mette più a disagio e in difficoltà politica la Casa Bianca una serie di video che arriva dalla frontiera sud degli Stati Uniti quel grande fiume che separa il Texas dal Messico sono immagini davvero raccapriccianti e immagini che fanno capire come la lotta all'immigrazione clandestina venga combattuta come stiamo per vedere respinti affrustate da poliziotti a cavallo che si comportano come cowboy alle prese con vitelli che si sono allontanati dalla mandria le briglie si abbattono su uomini disperati che non si arrendono provano e riprovano a passare sono le immagini devastanti che stanno mettendo in imbarazzo la Casa Bianca che non a caso ha definito orribile e inaccettabile quello che è stato filmato sulle sponde del Rio Grande la polizia a cavallo respinge con ogni mezzo comprese le frustate i profughi e i disperati che tentano di attraversare il fiume confine che divide Messico e Stati Uniti a cedere finalmente così alla terra promessa sono circa 10.000 provengono principalmente da Haiti hanno lasciato una terra devastata da terremoti uragani omicidi di presidenti bande criminali armate che ormai hanno preso il controllo dell'isola e guadagnano con i sequestri di persone e i traffici di ogni genere i disperati sono arrivati a quella frontiera pagando i narcos messicani che controllano ogni traffico sia di droga che di esseri umani cercano di attraversare il fiume tenendo tra le mani una scatola una busta un paio di ciabatte e tutto quello che rimane loro molti sono accampati da tempo sotto i punti altri in baracche fatiscenti i più fortunati sono ospiti dei centri d'accoglienza alcuni hanno trascorso mesi tra il Brasile e il Cile prima di partire e provare ad ottenere un visto umanitario negli Stati Uniti non lo otterranno il ponte aereo per riportarli indietro è già in atto facilitato dalle norme anti-covid ma sembra che neanche il rimpatrio immediato riesca a convincere gli haitiani a evitare di attraversare il fiume grande imbarazzo alla Casa Bianca soprattutto perché le immagini sono arrivate alla vigilia dell'Assemblea Generale ONU dove era atteso il discorso di Biden la portavoce PSACI ha ammesso che sono inaccettabili e inappropriate e orribili da vedere mentre il segretario alla sicurezza interna Alejandro Machiorkas ha annunciato l'avvio di un'indagine Il premio spagnolo Pedro Sanchez arriva questa sera con un giorno di ritardo all'Assemblea Generale dell'ONU perché ha dovuto fare tappa per un'emergenza veramente grave alle isole Canarie lì dopo decenni ha improvvisamente ripreso la sua attività un vulcano che adesso sta facendo già danni devastanti e la situazione secondo gli esperti è destinata ulteriormente a degenerare Dopo quasi 50 anni di inattività si è svegliato il vulcano Cumbre Vieja alla Palma una delle isole Canarie a largo dell'Africa sull'Atlantico davanti il Marocco gli abitanti descrivono l'eruzione come un tuono come un elicottero che passava sopra le loro teste dopo il boato la lava ha cominciato lentamente a invadere tutto così è come si è svegliata l'isola ieri circa 6.000 persone sono già state sfollate il fumo nero avvolge tutto le immagini dal drone mostrano chiaramente la colata nera che si mangia tutto i boschi i campi raccolti divora le case abbiamo perso tutte le nostre cose i nostri ricordi si sente dire i giardini le piscine i campi da tennis alcuni edifici collassano sotto il colore e poi continua la sua discesa verso il mare la notte si illumina con la colata incandescente per scampare anche alle fiamme i cittadini si sistemano in palestre gli altri vivono barricati in casa per il fumo irrespirabile i pompieri sempre al lavoro gli scienziati anche visto che si stanno registrando migliaia di piccoli terremoti e anche perché se il pericolo sembra scongiurato si attende con ansia il momento in cui il magma arriverà al mare quello sarà il momento in cui potrebbero sprigionarsi gas tossici sull'isola da giorni anche il premier Sanchez domani volerà New York per l'Assemblea delle Nazioni Unite oggi è stato vicino alla sua gente la gestione della crisi finirà solo quando la palma tornerà alla normalità e avremo ricostruito tutto quello che il vulcano ha distrutto ha assicurato è stato dichiarato lo stato d'emergenza il governo centrale lavorerà fianco a fianco con le autorità regionali anche la presidente della commissione europea von der Leyen ha annunciato che Bruxelles ha attivato Copernicus il programma di osservazione della terra gestito dall'agenzia spaziale europea basato su una costellazione di satelliti chiamati Sentinel vi parlavo prima delle notizie sul coronavirus ebbene c'è una nazione europea che è quella che si trova nella situazione più difficile infatti il 45% dei cittadini della Bulgaria ovvero quasi 2 milioni e mezzo delle persone vaccinabili afferma di non essere stato vaccinato e di non avere intenzione di farlo quanto emerso da un sondaggio di Gallup International citato stasera proprio dai mezzi di comunicazione di Esofia il 19,2% degli intervistati dichiara di essere già stato vaccinato con due dosi e il 21,5% non lo è ancora ma afferma che lo sarà in tutto è poco più del 40% e questa è la situazione in questo paese la Bulgaria tra l'altro è tra i paesi europei con la più bassa percentuale di vaccinati con entrambe le dosi che sono poco più appunto del 19% della popolazione vaccinabile anche secondo i dati ufficiali ma soprattutto è al primo posto nell'Unione Europea per percentuale rispetto alla popolazione di decessi causati dal Covid dopo di noi a 8,5% gli ospiti di Lili Gruber sono Mariolina Sattanino Gianrico Carofiglio e Tommaso Montanari poi c'è di martedì e tra gli ospiti invece di Giovanni Floris ci sono Romano Prodi Sabina Guzzanti Elsa Fornero ci fermiamo infine le borse dopo il tracollo di ieri le paure per il possibile fallimento del colosso dell'edilizia cinese Evergrande oggi più tranquillità nelle borse e recupero a Milano più 1,22% l'ultimo indice Fuzzi Mib in questo momento però New York è ancora contrastata il Dow Jones perde lo 0,02% il Nasdaq guadagna lo 0,29% è tutto Gruber Floris ci vediamo domani sera buonasera